Anticipazioni tempesta d'amore, lunedì 9 marzo 2020. Linda si precipita ad aiutare Christophe che si trova in palestra ed è molto debole. Ha luogo un forte scontro tra i fratelli dove emergono problematiche non ancora risolte. Linda inoltre fa rivivere all'uomo dei dolorosi ricordi che l'uomo aveva rimosso. Dopo aver perso il controllo perché ubriaco, Paul si sente in colpa verso i suoi cari. L'atleta si scusa con tutti promettendo loro che non rifarà mai più ciò che ha fatto. Gli amici si augurano che sia veramente lontano dall'alcol. Franzi non riesce a dimenticare il misterioso cavaliere che una volta l'aveva aiutata ad uscire dai guai e cerca di concentrarsi su ciò che le piace per non pensarci. Alfon riesce a fare un nuovo maglioncino per Tom sorprendendo la stessa Riddelgard grazie all'aiuto inaspettato di Henry che sa lavorare benissimo a maglia. La zombie Claire rimane piacevolmente impressionata dalla sua bravura. A biclaim tuttavia molte persone cominciano a prendere in giro il sindaco che vi resta malissimo. Jessica cerca di rimediare attraverso un discorso carico d'amore. Al prossimo episodio